...e partiti. Subito il gruppone, tra i quali si fanno notare nelle prime fasi, peccato di gola, Andreino, all'argo di tutti, contevole per vie più interne invece Lexis, in prima linea anche Marfa Zul. Il sauro Andreino in giubba giallo chiara, ancora più allargo colpevole che lo supera, all'interno invece Lexis, in seconda linea ci sono anche Scott Cirio che avanza di fuori in giubba blu e...